www.redigio.it e la storia continua Le cascine di trenno alla porta Vercellina, l'uscita di Milano verso Magenta della cascina Colombin e della coscina Ortelli A trenno c'è la corte del Colombin e si trova in via Rampugnano In essa svolgevano le loro attività due aziende di ortolani i Sainaghi e i Colombo Oggi la cascinetta è usata solo come abitazione E anche i Sordelli e i Bossi erano ortolani e avevano i terreni e la loro azienda sempre in via Rampugnano, ma sull'altro lato della via, a numero civico 175 A trenno rimane ancora attiva l'azienda Orticola dei Vaghi, vicino alla cascina Meghera mentre i Gezi hanno smesso la loro attività da qualche anno La struttura, meritevole di un rigoroso restauro, rivela all'esterno la fondazione di una originaria villa del Quattrocento con Torretta e un successivo adattamento cinquecentesco a cascina e un ulteriore rifacimento ottocentesco della facciata a ovest E a trenno c'è la cascina Ortelli in via Rizzardi È conosciuta anche con il cortile della Mariuccia dal nome della moglie di Ortelli e gli Ortelli allevavano pollame, occhi e anatre che andavano a vendere a Milano Parte dei rustici, quelle prospicenti via Rizzardi sono stati demoliti e rimangono in piedi la stalla funzionante e la casa del fittavolo vuota e in cattive condizioni Questa cascina, come quella di Accente dei Campi è stata costruita da Don Bravo per una comunità di disabili Una casetta ristrutturata è sede di una piccola comunità per il recupero di tossicodipendenti È di proprietà comunale e il terreno su cui sorge è destinato ad uso residenziale Il suo destino però non contempla il recupero ma l'abbattimento e la trasformazione per uso di abitazioni Grazie a tutti